Fate un po' di pratica finchè potete, presto ci muoveremo. Assalamu alaikum. Soldato nemico in arrivo. Com'è andata la partita? È andata bene? No, stavano giocando a me all'occhio. Trapparla. Ok, di sento. Ho chiesto se viene online, vediamo. Ah, che cazzo! Oh, ma non sparare dritto quanto fucile? Cazzo! Che fucile ha? Un 4. Ho fatto male però, mi sa. Sì, sì. Che vuoi'. Che vuoi me cazzo ooo? Che vuoi... ...vooi me stai... Dai... Escappimento finito, adesso si fa sul serio. Soldato nemico in arrivo! C'è uno shop solo Te lo faremo bastare Battle Royale Indica un punto di lancio per il team Gas diretto verso di voi E' meglio se vi spostate A me c'è anche molto Bottiglie prive Ah beh ma quella c'era già da un bel po' Si c'era già da un bel po' Ma era molto bella Anche se no Come si chiama Non sape ancora bene i titoli Vero sotto Come fa? Non c'è qualcuno Ehm no non c'è nessuno Questo almeno sotto non c'è nessuno Com'è che fa Paolo? No è giovane Ah si bellissima quella Fa viaggiare Un'intasso di placche Ah beh a me ti dirò più che le parole mi piace molto Se avrei capito o meno Poi vabbè ci ha personaggi importanti come Steve Occhi che è un producer Assurdo Steve Occhi è bastardo Ma ti ho preso il nuovo Ma ti ho preso il nuovo Cosa? Ma pensavo avessi rubato la piastra e invece non c'era ancora Ah no Ma vabbè I future con quelli importanti li ha fatti per vedere che ce l'ha fatta almeno lui Quegli americani perché li ha comprati Sì sì Eccolo qua il mio chilozzo Non ha terrato nessuno stranamente che non c'è lo shop Cosa di piastra Cosa di piastra Cosa di piastra Però io sono full di muni Muni sono sia di muni che di piastra Cosa lascia qua il bizzar rosso Non mi piace Cosa la metraglietta La uzi Ma io ho lasciato giù la uzi e ho preso il bizzar rosso Eh siamo due persone opposte Eh Marco Andiamo Leo se mi scrive Ah per te andiamo Eh se mi fattendo smetti di guardare Netflix dovrei giocare Sennò no perché la connessione non me lo permette Agli 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 Voglio qui nello shop tanto non ci serve Eh pensavo avessi rubato Pensavo avessimo là Guardiamo qua magari c'è soldi Guarda qua sono scolente Guarda là L'ho già vestito Eccoli Che qua cassa rossa C'era sotto un bombardamento qua Il sir Ora andiamo a tenere subito e immediatamente Che il sir Cassa di muni Vuole prendere la sua arma Oggi nuova classe Kilo Porto e Hdr Hdr Vabbè qualcuno Ah boh Eh vabbè tanto c'è già uno tu Un lancio di equipaggiamento in arrivo Ciao Su Wav io Oh no scusate Ah vabbè l'ho sbagliato Ah vabbè l'ho sbagliato Avete del gas Assessore Un team nemico Ma è finita Come è finita Cioè le lanci continuamente e non le finisce mai Ah quindi adesso se la tiro non mi finisce eh No devi fare il bug Qual è il bug? Eh no Cioè è tipo No la gente lo usa La taglia eh questa che ti pisce Siamo nella zona sicura Occhio è in Sono stata individuata A terra a terra C'è uno là dietro Ho messo lo scudo Ho messo lo scudo Dove? Dove? Eh dietro lo scudo In movimento Signorate quello che ho detto Nemici nell'area No è one hit Arcappure Arcappure Ignorate quello che ho detto Allora con i da e Non bin Ieri bet era nella Lavi di Velocy Visto visto Sapete il mio amico in volo Dice vado No no eh lo spettavo L'aspettato per 15 minuti Fa attenzione a not g Vediamo cosa vuol fare Ah vuole fare Il topo Eh L'aprema Ha preso possesso dell'azienda come se fosse a casa sua. Attenzione, Notchick. Mamma, come l'ha scopato questo qua. Tutto così, diceva. Grande Notchick. Poi ha aspettato già, Mimma è morto dopo due secondi. Che l'ho visto. Ma perché pensavo accettassero? No, 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 no. Non lo so. No, no, è morto perché l'hanno tirato sotto. Mi pare l'hanno ucciso. Erano rimasti l'intero 4. L'ho aspettato alla fine. Nemico in discesa nell'area operativa. Che già mi ha fatto fuori quello. Sì, è potente. Ti lo piacciono? Esatto. Prendiamo la taglia con in parte? Sì. Sì. No, fatti niente. UAB nemico in volo. L'hai presa? Prendi ora. Dov'è? Ah, è dentro, mi sa. Ah, è sotto, forse. Sì. Se la pinghi la vedi, eh. Pingatemela, così la vedo. Serve a qualcuno? Sì, ok, la prendo ora. L'obiettivo è eliminare il bersaglio taglia. È solo. Sì, è solo. Ho visto che trova solo. Vediamo quell'elicottero e lo stupriano. Quell'elicottero, uno qua. UAB nemico in volo. Ah, sta scappando. No, al quad. Piloto io. Ah, è già andato, Paolo. Sì, a quanto va veloce quel quad lì, porca voglia. Il nemico ha perso le vostre trecce. Siete al sicuro. Ui. Andiamo a prenderlo, andiamo a prenderlo. Farò il supporto come passeggero. Occhio agli alberi, eh. Farò il passeggero. Oh, no. Dove cazzo è andato? Eccolo là. Ehi, il nemico! Eccitato. È sceso. È sceso. È sotto il ponte. Ah, no, eccolo lì. No. Lo vedete? Sono troppo a che stava. Eh, lo sento. UAB nemico in volo. È sotto, no? Sì, sì. Arrivo. Avete un lancio di equipaggiamento in arrivo. Sì. Sì. Che c'è andato? Non vuoi scappare a sotto, Pastro? No, è buonissimo. Mi sono riuscito. Dai, hai eliminato. Dai, Pastro. Madonna, meno male si è vista. Alla nuova torna di Fuglia. Andiamo fuori che ci prende Paolo. Sì. Tu si è tra l'altro sotto, pazzio. La raga è difficoltoso, quindi vai a prendere lì, eh. Ma no. Ma dai, io sono largissimo. Paolo, posso guidare io? Mi metti in sicurezza. No, no. Ce la faccio. Le sceglie sono passate. Vengo anch'io. Ma no, il passeggero. Aspetta, fermati qua, Paolo. E poi andiamo a lanciare. Servi a qualcuno? Veloci, però. Ecco. È uno solo. Un po' che paura, figa. Prendi la taglia. Salam alecum. Versaglio taglia a contrassegnare. Ah, comunque te la taglia a chi da, Raff. Uuuuh. UAB, nemico in volo. Capito? Hai visto, hai visto. Mi hanno colpito. È craccato. È a terra, è a terra, eh. No, vedo. Terra, terra. È dentro, è dentro. È entrato. Sì, andiamo. Posso pilotare. Eh, l'avrà già restato. Ma è di straglie quello dell'elicottero ora, Paolo. Così pensa che siamo sopra. Scammata. Dai, c'è una granata! Bel tiro. Non possiamo stare. Non c'è la zona scura, ma. Vai qua, no. Ah, muore. Morti tutti. Ma è resta? Aspetta, stile discesa. Ci sono! Arrivederci. No, raga, ne ho perso l'elicottero. Non, non può più salire qua. Oh, sono qua! Sono qua, raga, raga, raga! Che cazzo fai? Sono i tuoi! L'ho scammato ma te l'aveva la testa. Un altro, un altro. La figa, tu me l'hai scammato prima. Dov'è altro? Un altro, raga! Fatto, fatto, fatto. Ho fame di chilo oggi. Delicando. Ho fame di chilo. Soldi. Guardate quanti soldi abbiamo. Non spenderti. Un po' di soldi. Allora, che è un pezzo di soldi. Stendiamo il super. Prenda la macchina. Mi scarrazzo io. No, mi sempre. Non mi rompo ventura. No, fai più da me a più. Non più da me, non più da me. Non più. Ma buona. Dobbiamo spenderti questi soldi, eh. Stock cash. Ma no, il pass zero. Prendo quella della macchina. Sì, 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 sì. Qui ci serve una ricognizione aerea. Vedete dei vigli di piaffre anche. Io ho la facca, ho la cassa. Bombardamento. Ah, anch'io c'è bombardamento qua. Vabbè, facciamo un triplo UAP. Qui ci serve una ricognizione aerea. Mascara, maschera, maschera, mi serve a me. Prendi il kit, Paolo. Oh, la taglia è qua. Prendi il kit, Paolo. Prendilo, prendilo, veloce. Per fare il rifornimento. Vai, guida. Guido. Eh, io. Prendi il kit. Vai, veloci, veloci, veloci. Vai, Paolo. Hai preso la maschera? Sì. No, vabbè. Attenzione, UAV in rientro forzato per fare il rifornimento. Andiamo qua. Insomma. Sì, che ci arrivassiamo questi. Non sono piccati bene. Qua, qua. Crossano ora. Non sono piccati bene. Non solo, non solo. Oh, dove è? No. Paolo. In questa situazione. Vai, scendete, scendete, scendete. L'altro dovevo. Ma l'ho tracciato, quasi la vita è. oh cazzo è la maschera bio vabbè andiamo palo palo vi prendi oh cecchini davanti no preferisco non guidare dai oh prendi eh agganciamento missile sono uscito in tempo si hanno coltto dov'è che è un bombardamento dov'è vai via via macchina macchina no no perché non se non avete guidato subito mi ha fatto mi ha fatto mi ha fatto tirare bombardamento merda qui ci serve una ricognizione aerea ecco ci penso io vabbè può tornare in azione qui jaguar 3-0 ho confermato l'avvento UAB iniziato l'avvento è stato non lì eh ma sono un'idee i cavi audio attenzione uomini in riena no tornerà alla base da destra non pensavo queste vivi voi eh io c'ho la maschera buggata forse se vado un po' nel gas mi si sbagga gas in avvicinamento ok se lo vuoi che sei te è buono si 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 bene siamo nella zona sicura si 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 cosa non ho capito no no stai scherzando ragazzi ho detto solo per caserci riesco a prendermi la mia roba no non lo so è pericoloso nooo sono morto raga no 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 dove sono dove so che ciò prendere la roba no 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 andiamo 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 a no no tic tac sulla droga la terra, la torre è alta cioè la palazione ma sono più vicino o sono sete con la? è la sala facciamo una bella cosa attenzione bombardamento di precisione alleato in arrivo andiamo andiamo no è per andare via andiamo mi hanno peccato sono più vicini eh mamma mia bravo vieni qua eh follow ho troppato andate da giù 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 eh sto provando veloce a restarla però che sennò vi pushano e vi fanno ecco eh è la lancia oh oddio il colpo di il rap è volato dici qui e ti rimandiamo in prima linea se perdi sei fuori gioco tocca a te soldato occupati di quello strusso mi sento stralento va oh boy no oddio e dove avrà meccano male via guarda guarda la riunzione posso venire per la mia roba? no ecco ma perché non sei scappato Paolo? no ma l'ho visto dovevo farle oh wow la fastezia Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni. Vieni, 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 vieni. Sì, avete un lancio di colpacciamento in arrivo. Io metete il domani. Girati di io. No, basta, basta. Stavolta ha vinto il nemico. Pronto? No, di lì, di lì. No, vado dopo per quando parto. Quando parto nella defensa, non vado. Sì, sì, vado io, vado io. Sì, ho chiamato, ho chiesto accessori e tutto. Mi hanno detto che c'erano sul sito. E poi ho scoperto che il nuovo, il coso lì, aggiuntivo. Era già un coso per sciolire. Eh sì. Esatto, era quello. Sì, sì, vado dopo col fugo. Sì, vado di lì. Facciamo. Eh, mio. Preparatevi per bene. Presto entrerete in azione. Nel posto uscito, sì. Let's start outside. Enemico in discesa nell'area operativa! il carro affanculo il riscaldamento è finito schieramento imminente nella livello l'acquerta andiamo dici che vuoi adesso Casetto dai Ok Battle Royale Indica un punto di lancio per il team Gas in avvicinamento rapido Andate nella zona Ovvio come sempre Salamalecum Io vado qua E io qua C'è il negozio? Sì O qua Adesso avanti il negozio Ah c'è il sciacallo là davanti Ecco sono già atterrati Stavo già fai danno Ancora di mangiare il blanche Noi non ci faremo trovare i miei paracchi Ok vado Ho trovato un fuggile molto bello Che piacerà a Paolo Vado agli noterò un manco L'area operativa Esattamente E' un bastardo sei Ma voi piace la K? Sì Raffa mi sa che mi piace Sì Raffa? Io ho il silo tanto Sì ora si Ora si Non parlavi prima Sì Boh vedo che a volte non parlo Sì 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 Tutto bene Raff? Dov'è stia? Pingamelo No lo so Non 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 lo so Con la davanti Ecco l'ho vista Forse Oden Smirato 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 Sennò Erano morto Di più Ho craccato Uno qua Merano uden Mi muovo Sì sì Entrato? Oh Sono uno lì Uno lì E' altrimenti perde Ho entrato dentro? No Ho abbiato Dentro 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 Sì Sì Siamo Questa gente a terra No 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 Qua 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 Andiamo qua Graffio Si macchia? Ok No Craccato Fatto Ci serve Andiamo Aspetta Non si cosa Mi piassero Ok Arrivo Ho due termite Mi hanno colpito Dove? Lo so Dove raffine Da qua Ok Vado Facciamo il giro da sotto Ok Vado Trovate 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 Oh Noi sopra Dove davanti Non capisco Eccolo lì Tipo qua Orta Che bolla Ha fatto da sul tetto Oh È cazzo È cazzo È cazzo È cazzo Bruna No 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 Eh c'è il bizzo Ne ruoni Ora sei nel culo Lotta per tornare in azione Sta iniziando un combattimento Fai un po' di tiro al bersaglio Mentre aspetti Provocare il nemico È utile per entrargli nella testa Lo è anche un sasso ben piazzato Stai iniziando un combattimento Occhio ai nemici Preparati Sei il prossimo Attenzione Il vostro compagno è stato sconfitto Sta tornando Se vinci questo scontro Torni in prima linea Se perdi È finita Tocca a te soldato Occupati di quello Preparati a rientrare in azione No Brava Preparati di G Ma cosa fai qua? Non c'è il mio Rontro nell'area operativa Mazda Non c'è lì Non c'è l'ho Non c'è lì Non c'è l'ho Non c'è l'ho Verbi a qualcuno Si a carlo Guà a preso il lancio Qua ha preso il lancio Bersaglio hai avvistato Io vado a lasciacarlo allora Sì sì arrivo Io se riesco Sono un po' bassino Però dovrei arrivare Non ho macchina Oddio manzettinata Non so da dove Dalla torre di Pevergi C'è gente eh A Virgi si La Virgi c'è sempre Vediamo se hanno ancora da dire Cassa di scorte marcata Recuperiamola Ci sei Iraf? Non lo so Ah sei lontano? Eh un attimo arrivo eh Mi piasso Mi piasso l'arrivo Ah che che Non ti sentivo parlare Eccolo Ci resti solo In tre sono Camper 3000 Mi metto io al volante Mi metto io al volante Arriva un lancio d'equipaggiamento Gassi in arrivo Zona sicura riposizionata Guido io Metteteli comodi No ma sarà bella C'era lontanissima Dalla che posano Dalla che posano Dalla che posano Eh? adesso mi vai dappino provare perchè era l'ho più importantissimo buona, buona ehi, numero, numero ah sì sì, tradico, tradico tu pinga, mettilo dentro 8, 7, 6 2, 4, 8 5, 1 avete del gatti in arrivo eh, c'è tutto quello che ho detto la fine in effetti se avessi ragione dopo c'è Leo un team nemico vi sta inseguendo qui c'è un astuzio gente adesso fai straight fretta e riusciamo a prendere maggio magari mette mille in due diciamo a prendere sì, sì qui c'è un venditore ma chi è prendere quello che ti serve? se è gratis a prendere o no? adesso ho avuto le tasse di ognuno dopo ho visto così, tante roba vi diamo all'aggio eh mettete i comodi ho la macchina ho la macchina oh oh ho la macchina subito per arrivare qua allo shop vediamo chi ha guabin nemico in volo saldi in conto 3 delle stazioni di acquisto ritocati intendi il primo che ti viene saugrati si davvero eh, non a posto vabbè avevo visto 2k ci senti? no finiamoci le piastre anche qui ci serve una ricognizione aerea qui Jaguar 3.0 confermato no iniziato qua delle piastre non ci sono prese prese tieni paolo guabin nemico in volo guabin nemico in volo ah sono lì andiamo al concessionario oh guardi macchina attenzione uav in rientro forzato per fare rifornimento uav nemico in volo eh sì ciao uav nemico in volo comprate qualcosa ancora emico ha perso le vostre trecce comprate uav nemico in volo veloce 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 e una cosa di protezioni anche una cosa di protezioni da tenere uav uav uava alleato in sormolo avvio scassino e ratta faccio io la tua vita francese in arrivo ora ci fa così la parola che è il triplo basta quanti metti a vedere troppo giocatore piastre guarda quanti ne sono qua per terra ne ho tre in movimento tornati alla normalità come l'ho mancato questo ragazzi c'è un altro uovi qua da me vabbè lasciamo io allora non vorrei dire ma abbiamo gente dietro anche qua che fight movimento se non volete perdere tempo lì però vabbè no ci sta anche perchè tanto la safe aia aia raga no ma come no raga ma non è vero richiesto di cognizione aerea è uno solo non so come mi abbia fatto io ho spalto dritto in faccia no cazzo di poco manca ancora io caro guarda raga c'è quello lì c'è che arma aveva in P7 ficha mi è venuta troppo forte mi piace mi piace mi piace senza ci servia qualcuno lancia una granata ecco Stavolta ha vinto il nemico Cosa è Leo adesso? Invitiamo Leo Ecco il campione Eccolo qua Ecco il bombero Avete vinto? No Ah l'hai cambiato Il cardadese era un po' imbarazzante Sono raccontate bombas Ma dai dai Ah ieri abbiamo vinto Si è ieri una si Come è giocata Contate chilo In maniera tecnica Almeno 30 No 28 In 3 In 3 In 4 Ci sta dai Ok 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 In attesa dello schieramento, è un buon momento per riscaldarsi. No, 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 no. Il divertimento è finito, si va nella zona di guerra. No, 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 no. No, 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 no un coglione ma è proprio fatto se io intanto adesso che c'è l'eone faccio 24 perché lui mi dà la carica una volta più facile quattetti certi terzetti adesso quattetti sembra più giostitibile il terzetto è molto più fatica ma perchè per me c'è molta gente che non ha team che gioca tanto per quindi sono molto disorganizzati perchè a trovarne 4 è più difficile che a trovarne 3 in realtà perchè c'è Leo secondo me cassa di scorte intimitata tu semplicemente detto così intanto Leo non è ancora atterrato no raga mi sta laggando ci sta passando il giro panoramico basta Netflix Tommy basta Netflix ti prego fammi atterrare guarda lo facciamo vai sta normale con ci do le vede tutte e due prossimo obiettivo localizzato non ti sei perso niente non c'era niente Raffa non so insomma volevo solo farcela perchè ce l'ho fatta una volta appena non c'è nessuno c'è anche un cane cosa si pare hai dato i soldi che vado a prendere il lancio intanto qua mi salutate come dei cani guardate lui bello caro non va solo eh ottimizziamo i tempi no? leo? vai leo ti ho passato? no poi si mette in giro insomma dopo il muoio puoi venire anche tu non so quello che vuoi vediamo tutti dai dai vabbè da me che buona dammi soldi puntati poca scheratità arriva un lancio d'equipaggiamento prendo Wav nel cassa di Muni si no è pieno ok si è Muni si è assaldo se li servono ce li vedo io che non li uso non so se se li hanno hyper non ce li hai pero io eh ne ho poca avvio scansione radar uh davanti a noi uh bella c'è un team preso lo d'auto guarda aspettiamo aspettiamo allora si a terra stanza lanciata granata partita mi attaccherò non è so far sicuro qua dentro ma che cazzo di un po' ma ragazzi mi ha fatto due lancia una granata ma che pare oh presaglio avvistato oh buone 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 si lascia si lascia guarda torna in prima linea compagno finito nel culag sopravvive lì torna in prima linea fermolina adesso mi va ci sono ma c'è un altro eh ne abbiamo fatto si 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 c'è un altro c'è un altro piantrati tu bene siamo nella zona sicura attenzione ma non ci credo l'altro compagno è stato sconfitto laggato eh sta tornando alla base di fronte è uno ehm guardate non si è qua col pompa da UAP nemico in volo è qua la è in casa si dove sul tetto guanizzo a meno di guanizzo proprio ma è possibile che erano andato neanche una volta non ci credo vieno qua chiamavo questo qua ti audio davanti a te questo è il mutag sopravvivi e tornerai in azione pronti allo scontro fai un po' di tiro al bersaglio sinistra ecco provocare il nemico è utile per entrargli nella testa lo è anche un sasso ben piantato ma vaffanculo figa no dovevi metterti la mp5 subito non lo so un po' di tiro da vicino no fai attenzione presto sarei preparati è inutile sei il prossimo si ha se vinci questo scontro torni prima linea buona la prima sinistra sinistra conquista l'obiettivo chi ti risalzi hai visto ok ho messo a climber non andar di lì bravo non non gliela puoi far esplodere con il sasso si lo sai eh lo so ma era già lontano non è ancora finita il tuo team può pagare per farci uscire ha la tua sinistra buona no la tua destra scudami ho spawnato la tua destra cazzo stavolta abbiamo preso ci riparremo alla prossima cazzo stavolta abbiamo preso ci riparemo alla prossima Se li hanno l'hyper, non ce li hai, credo io. Eh, ne ho po' più. Avvio scansione radar! Uh! Davanti a noi! Uh bella c'è un team! Credo lo d'auto! Aspettiamo, aspettiamo allora! Sì! Arriba e via! In terra! Strancia lanciata! Granata partita! Staccato uno! Mi attaccherò! Un dentro qua! Sì, uno qua dentro! Staccato uno! Staccato uno! Staccato due! Lancia una granata! Ma che stacca! Oh! Buono, buono! Un salio avvistato! Oh buono, buono! Un po' chiudere! E la puoi fare solo delle cose su una gerarchi che è venuta? Eh lo so! Dovevi metterci la B5 subito! Cosa? In azione! In azione! No, no, no! Però con attenzione! Sì! Magari per farci uscire! Alla costa sinistra! Buona! No, la tua destra! Scudami! Buona! No, la tua destra! Scudami! Oh! Preparatevi per tempo! Benio! Ecco eretimi! Nero interretti in azione! Apriadevi per tempo! No, la tua destra! Loose internarla! Così eretimi per tempo! Benio! No, la tua destra inscasione! Edito eretimi per tempo! Benio! Quante anni ha? Due anni in meno di me 2000? 2001 1 Guarda che c'è il 99 tu Ho un dato nemico in arrivo Eh si ma che ne sono i 2000 Eh io sono 2000 Ok può passare Adesso combatteremo per davvero Però Raph mi sembra sia il 99 No Raph è il 98 Ah 98? Si No si è 2001 Eh eh 92 2001 2001 Piccolino Il piccolo Raffaele Piccolo Raffaele Eh si Un piccolo Raffaele che spara con le armi Allora perchè io te l'hanno migliore zio 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 No io ho capito il 99 però L'hanno migliore No no Mancherebbe No No Perfetto 0 Eh si dal giorno zero Subita bè c'è No millennio Bè c'è per me per me per me ma io sono del nuovo millennio ahahahahah scuscu del nuovo millennio guai ci siamo a cannone bersagli disponibili al lavoro che bello è quello di armi a paolo proprio bello ah io volevo quella io no oggi mi sa che a questo giro c'è gente eh meglio così dai minchia quando mi ciucciano silenzio ho detto come penso a una cosa che fanno fuori di test ahahah taglia identificato fatelo fuori è stato rough eh forse eh si quel cazzo di pc veni vedete la metà del mio tempo prende le robe bella bella ma lì per una impurimpostazione cioè per una scelta questa cassa sotto ma c'è qualcuno? no ma io io non pingo nessuno qua raga c'è ma come mai a su questo non viene mai più nessuno cioè non viene più nessuno non so c'è successo qualcosa eh vuol dire che la gente muore a cazzo probabilmente se sto fanno vabbè è sempre stato vedi eh insomma tutti gli anger però è vero ma non c'è nessuno però quando saldiamo noi non c'è mai nessuno ho uno beh perché non c'è negozio quando c'è negozio ma quando c'è negozio poi c'è tantissima gente e andiamoci a fare raga 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 dove va la gente allora andranno a... andrà troia ma adesso non gioca più a warzone ma sai alla fine da me in questo warzone diciamo così non c'è ehm un posto che dici mi che ci fanno tutti fino alla morte eh super solo vabbè ci andava uno del team allora ti sembra pieno ma molti seguono anche gli youtuber così dove vanno e quindi si abitano con le stesse cose l'unico posto in cui ovviamente ci andava gente a stecca sempre a fin d'acoli forno dici tia ma che figa tia 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 prendi i soldi e il UAV che ci si entra a storage si andiamo via preso tira tira UAV alleato in sorbolo avvio spazio bomba potremmo prenderne anche due di orvi quello che dicevano ci diciamo ma se vanno bene lo vengono no eccoli la CONTATTO CONTATTO ma non si tratti di quello che siamo in open marco scusami scusami ha fame ha fame lui sono lo shop eh tutti tutti e tre no c'è una a sinistra no ma ecco tutti e due 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 ecco ha preso il lancio aspetta che ti devi flash flash stordito stordito vai guarda siamo sono delle mummie vai in versaglio a terra vai e una licea guarda come viene si sono si sono città che scega è proprio un paio un belly in fata una mata hai ragione Raph davvero ressarti avevi fatti tutti? si non è quello in volo è in volo è atterrato all'ospital poverino il loro lancio dai facciamo il loro uo v uo uo v dai i miei soldi compri due anche no leo tieni uno anche te leo si tiro io prima lui è fermo o no? l'occidente qua c'è uno in open madonna come vado a schiatti io vado di la ma sono già sul tetro ignorate quello che hai detto mh ci voglio stare eh andiamo ad hangar boh ma l'ho capito eh boh sono un po' inculati c'è uno qua da corona da storage vicino è una mezzo di sicuro è una mezzo di sicuro andiamo a tutti facendola stavo un attimo controllando la connection ci sono i 700 di qui uuh c'è uno di là da 200 dito si ma è quello la casa in fondo di là in fondo di là eh che cosa c'è mi metto io al volante mi metto io al volante guavi alleato in sorbono bravo oh c'è un volante versaglio avvistato si no forse la eh quello con la macchina eccolo qua uno che sta uno è arrivato in picchiata dentro ah è morto anche anche morto c'è la terra c'è la terra no no ho chi completo questo si andiamo ah no con quella della torata ah no si si non so per noi tra l'altro ah ma se ne vanno sono in volo? si 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 ma dove non li vedo eh li vestiti con il cecchino guarderò lì che volo guarderò lì che volo che palle oh non c'è nessuno andiamo verso qua qui c'è un venditore potrebbe avere quello che ti serve un team nemico vi da la caccia occhi aperti oh mio le leo per te serve a qualcuno? mi arrivo laghi ancora? eh un po si il troppo un po' si dai corazza qui medio calibro qui corazza qui corazza qui corazza si riesce a gelare un po' di subito cosa stai facendo voi? stiamo arrivando c'è dentro di voi oh c'è un cecchino oh c'è un cecchino dove? craccato eh sulla avete un lancio di equipaggiamento in arrivo dove? qua la casa qua eh visto 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 togli pinga togli ignorate quello che ho detto lasciate perdere vabbè pusciamolo Cassi in arrivo nuova zona sicura contrassegnata te la taglia raga eh si ho scensi di tomba va dio ma perchè non ti chiamano togliamento UAV era? ah scusa ma a fantasma non me lo pinga qui ci serve una ricognizione aerea qui jaguar 3-0 confermato battugliamento UAV iniziato non ti chiamano non ti chiamano scappati questi eccoli la contatto si ci sparano traccato uno togli togli ping buona togli ping buona togli ping buona eccolo carissimo UAV sì certo carissimo bravo attaccato uno nel mio lag non so neanche perché c'è una granata c'è un altro c'è un altro dove ero? aspetta preso ti resti ti resti mi resti mi resto no sono un idiota c'è un hit questo c'è raga non ci credo c'è l'ultimo questo c'è un hit perché fate 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 ma perchè mi lagge non riusciva a colpire dato quanto laggeava sono stato un idiota ho preso la mia P5 cioè ho messo il filo al posto del del coso nel punto raga dobbiamo farci l'altro restere perchè almeno uno va a terra e si riesce a rianimare se no gas in avvicinamento eh si UAPI nemico in volo eh facciamo ora la bomba dai la cronometro si dai vediamo dove ce l'ho da eh non ce l'ho da lontano cazzo allora dove c'ha da niente orca dove vuoi troppo non capisco un caso adesso avviene prendiamole allora sto robo aspetta uno 50 metri mi lo pinga ah 40 è un team to death cazzo tantissimi tantissimi uno a terra merda uno a terra ma dove è finita la best vada UAPI nemico in volo eh davanti a noi c'hanno non hanno un contagio ok uno fatto uno fatto guarda 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 merda a destra a destra un'altro team mi pushano son tipo qua vado di qua vado di qua uno in casa credo vado di qua vado di qua vado di qua dov'è uno in fondo io vado di la arrivo guarda che son cattito sono restabile sono stata avvistata c'è una terra ci provo coprimi rap va bene mi cura mi cura mi cura granata partita qua paolo ho fatto lo veloce eh no c'è un altro qua nooo dai ci torniamo a prendere la nostra roba questo è il gulag no se no no non so se conviene tornare lì andiamo al lancio il movimento che sbaglio invigato eh io ne ho fatti due no c'era evasion attiva oh eccomi ci sono grazie no povero paolo come nuovo ma c'è la mia madre con la banca del setto per me ma torco di infatti non capire ciò non c'è non è possibile uapinemico in volo ma non possiamo prenderci il castemunio non abbiamo soldi aspettate che devo dire che sarebbe ma anche in un figlio che ciò di tanto non abbiamo messo di volo uapinemico in volo ma c'è certo ma come possibile tornerà la banca del testo eh dobbiamo tornarla allora cosa stiamo fare possiamo dobbiamo andare dove sono quelli che ci siamo fatti che avevano le munizioni erano qua ma sono desponate adesso si spaventano tutte le munizioni ci facciamo la corona quasi quasi beh cazzo duro vabbè un alleato è stato segnalato come bersaglio è stato attaccato proteggilo a ogni costo è stato attaccato è buono ok andiamo sopra il tetto di ciscina si hai ragione si si però che va 3 minuti a camperarla eh vabbè 4.6 a testa ti dà anche un sacco di testa ti dà anche un sacco di testa raga vedranno munizioni eh eh appunto nemmeno io nemmeno io fatti andiamo la andate subito però andate subito andate subito si 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 mette un altro se mi ha dato i soldi raga ah no ho scritto manca il 100 non ci credo cos'hai preso? vuoi comprare le piastre raff? eh le ho comprate io eh comprare le anche per me eh raga però state vicini eh le dai qualcuno grazie va l'angolo lì a sinistra no 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 lì ma lì ti cecchino di brutto devi andare qua no 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 neanche lì ti cecchino dove? guarda questo angolo qua guarda di qua guarda di qua perché tra l'altro ti cecchino di quella casa là è giù tu è giusto è giusto tu marco tu non devi fai tardi devi stare giù e camperare basta guarda di qua la cosa non gli piace eh piccato se non è ricercato anche a che piazza guarda di qua guarda di qua guarda di qua guarda di qua sto qua ok che è raff sicuramente esatto c'hai la pazienza di un cocainomane infatti credo ah chi è bimbo è lì 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 ci spavano ok dopo ci siamo lasciati a capo marco cantare non so maggiore canterare e sto che ci sarebasta con il dente toro sciopato no no per me mi sa che ci bussiano questi eh era gratis eh devo sentire sopra sotto ti salgo sta salendo? ehm no perchè perchè non si è tutta sopra che eh ma tanto vedete sopra ci sono entrati tanto no no sono andati avanti comunque sono a storage adesso o è un altro team hanno paura sono a storage dai ci siamo dai ci siamo dove andiamo adesso non parlo a terra uno a terra uno finito vai a dormire vai no merda anche un altro team a storage ci siamo chiusi state giù state giù state giù contratto completato dove andiamo dove andiamo? ehm qua 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 vedete qua qua vedete qua 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 c'è un venditore riusciamo ad andare a vele? no non è vele no no non ho fatto data dentro non ho più munizioni raga non so dove cazzo andare siamo chiusi raga bisogna stare qua a coesemente a operare за ai uwagi le roles hee no no dietro dove andrarsi paolo era pieno siamo messi nella platea si riserverà che si rispose lui eh evo leo ero ma andiamo via ma dove? c'è gente davanti e dietro andiamo a sto la regge eh ma vabbè c'è gente andiamo no niente ho cambiato idea dove andiamo cazzo? andiamo da pompieri no no c'è un'acqua d'acqua no è ovunque ovunque non ho mai comunizioni ma zio o ti butti e vai allo shop a destra devi andare qua stazione medica laggiù no no non lì non lì destra c'è un altro shop di qua qui c'è un'altra stazione medica hai capito? silenzio lancio un astordente lancio anche te lancio anche te ecco due stunnati mi colpiscono non puoi uscire da lì mi sa non hai manco colpi zio dote mi sa che non puoi uscire ah devi passare dalla porta forse ok vorrei che troia ma qui c'altro parte la safe o muori dalla safe o muori da lui sei sul lato corto e quindi dovrebbe non dovrebbe andare veloce però Dov'è? Dov'era? Nooo nooo Era sopra sul balcone Vai che il Celesto non mi lagga e riesco a giocare finalmente Vuoi spaccare i culi? Nooo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Preparatevi per bene. Presto entrerete in azione. No, forse ce la facciamo. Soldato nemico in arrivo. Ma che è impossibile che... Porca puttana, sei giocato di merda. Poco del cazzo. Si, ma c'è gente che campera pure in... Questa ora lo rifaccio perché mi ha rotto il cazzo. Bravo, tu vogliono estrarre. Pastiglia prese. E via. Guarda Paolo come si incadde. Rescaldamento finito. Adesso si fa sul 6. Come è fomentato nel game. Soldato nemico in arrivo. Si vede che è in live. No, non sono in live. Non sei in live, cazzo. I tuoi spettatori volevano vederti. No, ma... Ci devo scaricare anche le registrazioni di ieri. Quindi se no mi raccarico un po'. Non faccio più un cazzo. Not G che ieri è andato con Velox fa una partita. Battle Royale. Si, ho visto. Ma ho visto. Vabbè, l'hai pensato perché è strimata. Hai visto il video anche? Si, si vedeva malissimo ma si. Sciacallo? Si, vai, vai. Mi sa che c'è un team. Appendo io. Cazza di scorte è pronta per il recupero. Un team va. Vado alla cazza. Di che? Versagli disponibili. Al lavoro. Contratto aggiornato. Nuovo obiettivo di tentativo. Vado, con sto car qua ha fatto un quick. Vado. Di che? Madonna che botte sono stato immobile. Cagato quello che ho gusciato? Io immobilissimo ero. Niente, niente raga. Eh, ma ho sbagliato io. Ho sentito e gli sono andato in bocca. Immobile tra. Sei un bot, sei un bot. Questo è il Gulag. Un cazzo di bot. E tornerai in azione. Ma mica lo lanciarà, di figa io. Oh, una terra qua. Terra no? Visti, visti, visti. Pensiamo questi poi, vallo prima. È solo uno, mi sa, questo, eh. Vallo che ho usciuto a me. Sì, questo qua davanti, vissima, sì. Atterrato. Fatto. No, no, ci spara là dietro. Sì, li avessi visti, visti, visti. No. Oh, what? Stai iniziando uno scontro. Il prossimo sei tu. Preparati. Veloce, non fermarti, Paolo, eh. Non fermarti. No. Se fici questo scontro, torni in prima linea. No, era cracker. Mi sono fermato, ma... Che pari. Ho conquista l'obiettivo. Oh, in questi casi forse va a rinforzare. C'è da te, c'è da. Eh... Oh! Oh! Io ho fatto danno, io ho fatto danno. Uh! Mi ha fatto valere. Mi ha fatto esplodere la crema, con senso. Sì, sì. Bravo. Quante le sai? Eh, adesso, è mezzo. Ciao, è mezzo. Zero, zero, zero. Sì, è davanti. Per caso, no. Sarà pieno. Compaio, in rientro nell'area operativa. Emozionare, nuova persona. Eh? Fa emozionare. Chi inizio? Ragazzi, inizio a voi. Compaio, in rientro nell'area operativa. Ho vinto. Ci sono colpito. Compaio, in rientro nell'area operativa. Sciacallo? Ma che sciacallo? L'ho fissata. No. Sono morto, un po'. Molotov, lanciata! Tieno sotto, eh. Ti sei visto. Oh, ho preso con la Molotov! Non so come ho fatto! C'è, c'è. Dove è? Dove è? Dove è? Ci sono! Sto sotto, non sotto. Raffo, scendiamo giù di cattiveria. Eh, sono lì, alla casetta vicino al shop. Non hanno muni, non hanno muni, eh. Io scendo qua, allora. Sono qua, sono qua. Movimento. Non so che si può andare. Eh, taggecchino, taggecchino. Andiamo giù di qua. Sì, sei ma trofi in uso! Io se avessi trovato lui ben prima, eh. Vieni, vieni, vieni. Ah, no! Raffo, io pensavo fosse lì, oh! Contatto! Dove, dov'è? È su Twitter, Raffo. Ti stavano ricorrendo, ne hai sentiti? Con due, su due. Io sono scappato, è lontano. Non li ho proprio spiegati. Fica, pensavo fosse lì, oh, quello di Twitter. In arrivo. No, no, io ho detto che a terra nelle... Nelle casette, quelle davanti. Ci sono scontrati. Bello sensore. Porca boia, raga! Cioè? Dove sono, Raffa? Ah, sei sul tettone. Sono buttati ora. Fica, ma laserato in un secondo. Fica, raga, che start di merda. Ma spero, spero, adesso prova a fare la vera. Sì, allora. Mi fa vedere la kill-cut. Buono, da mili kg. Ok, qua. Forse non era una bella idea a prendere la casa. 16 metri. Quanti cazzo sono? Un soldo nero. Guarda a destra, non so. Boh. Sono sopra, non so. Aspetta. Ah, sono fuori, aspetta, aspetta. Come cazzo si sale più? Eh, da ridendo. Parco di ricopata, state via, state via. No, ma no. Il visto uno fuori. Via 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 via. C'è una cassa, che cazzo. Dentro qua, sinistra, mi sa. Suntro lo shop, sinistra? No. Magari, no, ho già aiutato sotto. Sì, sì, no, io voglio capire dove sono si stronze. Mi ripingava qua, non li trovo più. Non è possibile. Ne sono andate. Sì, sì, sì. Sono lanciati. Se vedi a casa sotto, riesce a restare uno. Eh, sì, 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 infatti. Dove? Dove c'è la cassa più? Era sotto. Destra, destra, provando, adesso. Sotto questo piano. L'hai tipo presa del tipo, vai via, vola via. No, esci qua destra, Dio. No, destra, destra. Qua, qua, qua. Lì. Di qua? Sì. Ma lì davanti ce n'è una, sicuro. Fermo, fermo. Lì sopra, sopra. Sì, visto. No, sopra. Dai. Oh, ne resta una, vai. Prima di morire. Voto il primo, eh. Non prendetevela. Vai qua sopra che c'era una cassa. Mi sposto qui. Potete prendere la bomba? Su l'attento? Eh sì, questo tentino qua che c'è, no. Allora, dice un'arma, qua c'è una piastra. Dove è la cassa, Raffi? Ah, ok. La bomba, la bomba. Sì, un'altra cosa, cosa siamo, qua, qua. Serve a qualcuno? Un'altra bomba ci fa gratis. Eh, ma ci vuole il mezzo anche per farlo. Chiedi, non c'è il mezzo. Eccolo qua. Eccolo, leggero, qui. Tontanino. Vai, prendilo, allora. Sarà dura, eh. Vi ci ha ricercato, lo chiamo. No, 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 c'è la bomba. Dov'è la bomba? È sopra. Sotto, sotto, sotto. Ma è qua davanti, Pia, questa qua davanti. Non c'è qualcuno. No, no, non è ricercato, non è ricercato. In movimento. Non pingo nessuno. Andiamo su, tutto, verso di là. Non riusciamo a dare a me. Non riusciamo a dare a camere, secondo me. Di là dove, scusami? Eh, verso, verso questo. Ho fermato. Ma qua secondo me troviamo i soldi, eh. Ah, no, hai già luttato. Sì, sì, hai già luttato. Che palle. Bomba. Non riusciamo a dare a lanciare. Come no? Perché? Eh, non riusciamo a finire a svelar il contratto. Ah, eh. C'è la macchina, prendila, veniva a prendere. Spassa dalle... Ah, beh, c'è la macchina qua. Sì, già fatta, Paolo. Mi piace. La macchina, sì. A piedi, no. Mica, sono due. Sono due. Ecco, sta a vedere. Via. Veloce, veloce. Vabbè, vabbè, ha contratto, ha contratto, ha contratto, Leo, Leo, Leo. No, no, ha contratto, beh. Ah, lì, bisogna, bisogna. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ecco, ho contato il cimento che c'era gente qua. Merda. Ah, che vuole fare lo stesso, merda. Eh. Ho parcheggiato anche un po' Sì, non l'aveva coperto. Aspetta, aspetta, aspetta. Dai! Stavolta! Era craccato, pure. No, devo tenermi il chilo. Pensavo mi pusharsi davanti. Sì, vaffanculo, va. Nella fretta non ho manco guardato atto. Lo sapevo, ha raccontato 100 che c'era un team. Sì, sì, ovvio. Sì, sì, ovvio. Sì, 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 sì. Controllate l'equipaggiamento. Gli aerei si stanno preparando allo schieramento. Cioè, facciamo fare uno star decente. Sì. Soldato nemico in arrivo. Ce lo faremo! Sarò io il pilota. Soldato nemico in discesa nell'area operativa. Granata partita! Flashbang lanciata! Minchia! Vita, ti uccido, porco Dio. Non puoi vanare così tanto. Guarda quante killa. Ok, può bastare. Adesso combatteremo per la... Cinque. Non ho portato nessuno. Un grossi due. Slash, slack, 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 slack. Skrskr? 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 Ah, scusate. Sei un terapè di zero? No, storage no. Ah, vabbè, anche storage. Cioè, provarebbe anche storage. E' uno starter molto, 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 aggressivo, eh. Indica un pericolo di legge per il team. Che trapper! Che trapper! Che trapper! Ma che trapper! E' lo uccide il trapper, li mangia! Quello è mio! Quindi noi lo andiamo superato a... A storage! A storage! Storage, dai! Che c'è? Ma io lo hai fatto giù, storage, eh! A lei piace il gulag, andiamo a storage! Ma è lei che è il tuo storage! E' il gulag è sexy, raga! Avete con... C'è caldo? C'è caldo? Eh, allora andiamo qua a fare una parte qua a sinistra. Ok! Sì, è pieno, raga! Contatto! Eh, attiriamo lì, attiriamo lì, attiriamo lì, attiriamo lì. Aiuto! Sì, che è pieno! L'obiettivo è che si parla e la patroia! Non ho un'arma! Non ci sono armi qua! Cassa di scorsa individuata, va a recuperarla! Fatto uno anch'io! Ok, ho trovato un music, quello che mi serviva. Dov'è? Aspettami, Paolo! Dai, mi puscia! Dai, no, mi lascia! Ho tirato una rancchata! Mi ho fatto uno, comunque! Eh, rancchio! Scuspido! Dov'è? No! Raga, qua è una terra, una terra! No! Ti ammazza il cecchino, questo qua! Ma dove l'ha trovato? Dove l'ha trovato? Ti ho sbagliato, tra l'altro! Eh, c'è quello lì, eh! Quello che mi mira! Eh, prova a vivere, Zio! Se perdi, è finita! No, ma ce l'ho in alto! Guadagnati la libertà, soldato! Ok! Che cazzo è andato, questo? Ti sei fatto valere! Preparati a rientrare in azione! Guarda qua qua! Guarda avanti! Qua dietro anche! Eh sì, sì! Mi lascia caldo, io, ragazzi, è bellissimo! Posso... Riescare venire da voi? Sì, da me senza! No, c'è uno qua! No, scherzo! No, barco non vi accendere! No, che cazzo dici! No, dai, sbagliato, sbagliato! Sono safe, però, eh! Non mi hanno ancora visto! 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 Allora, che tu sia safe è un conto che io, per arrivarti, sia safe! Li aggiornate per rilassare alla prossima area! Esatto! C'esento qua! Esatto, per tutto! Perda! Ma dai! UAPI, nemico in volo! Ma vaffanculo! Per me ne fotterceneflat! Ma, manco, uccidi te! Eh, no, ma lui... Sperisce a soffrire! i love the sussars i soldi per uno li avete comunque sto arrivando più avanti di te quasi anzi non si è basta sui pistole audio guarda che c'è gente qua vado pide puttana non ne perdo uno di culo l'ha detto qui c'è una stazione macchina dentro di voi l'ha posso trovare scuola la scuola di soli casse non ho trovato uap i nemici versagliata qualcuno che vada via subito lì c'è una stazione bastardo l'anno ti prego padre nostro eterno non mi tirare questo legato i minuti non si può andare anche di nuovo non farmi bestemmiare sta macchina non si sta facendo pompa scudo bella Marco dove sei? sto arrivato ho pompa scudo no sento cecchinate mi faccia vedere come c'ho qui mi copro io che c'ho lo scudo no non c'è nessuno mi sembra non ti vede non ti vede vai da lì copertura non so come si fa uscire da qua che faccio raga ok arrivo vieni vieni no vai sul tetto ma raffi ti avevo dato copertura a posto per entrare sto arrivando stavi sparando io non ti ho visto dove sei? sono dentro eh raga non c'è c'è sto arrivato però guarda qua sono due sul tetto raga tre sul tetto no sono tre sul tetto sarà un timintero eccomi raga devo a terra porco due dimmi qua 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 in movimento prendiamoci il lancio eh c'è un altro c'è un altro raga qua c'è gente sul suo movimento ignorate quello che ho detto hai lo visti scontatto e io lo scudo eh visto scontatto si muoio si muoio ma come è possibile filo se non riesca la parte di uscire dai è impossibile ma dai vado 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 via sono scesi mi sa sono scesi mi sa vieni vieni via 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 scappare scappare oh mi sono incastato devo andare a quello shop qua davanti se qua ci scottenono per bene qua ce n'era uno qua sopra eh dal parcheggio raga dove stiamo andando io andiamo qua no no sono ancora la sottettore non corgetevi vado visto visto non lo so qua davanti rischio fermato qui c'è un venditore potrebbe avere quello che ti serve via 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 vado lo dote piastre a terra un po' bravo paolo ti stavo pingando ignorate quello che ho detto vai abbiamo preso tempo andiamo 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 cazzo di gioco è questo uap nemico in volo no 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 cazzo di gioco si sceglie se leo riesce a venire ci sono sceglie ci sono sceglie ok io provo io lì ma si io dovrei comprarle le piastre Riuscite a restarmi? Sei già restato Andiamo via con la metro raga Fidatevi Vai vi raggiungo io Dall'alto Dittemi dove va la metro Non sto salendo Mi muovo Che sfiga Scendono Un lancio di quel facciamento in arrivo No la gente fa Da dove è arrivato questo qua Scusate E' uno a casa Avete un team anche di tetto rosso Qua Qua c'è gente No 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 Uno allo shop E' una macchina che è arrivata Mi sono morto Vai dentro la casa Se piacciono la metro Eh grazie Marco Entra Entra Eh lo so Io la metro raga Dove vado? Vai verso l'unica opzione Vai qua Ok vado Non devi prendere il train ma l'altro Ah io lì c'è il cartello Questo no Aspetta guarda il cartello lì Si è giusto Oh Di la giornata No no Merda Stavo leggendo il cartello Mi Il cartello Eh si Lozo Fasma Baffa Gigi Bro Paolo Amore E' tu vai tu e tu Un colpo Finga E' ciotta ragazzi Il paolo Non è lo so Deppire Vai qua Secondo me No vai qua Più safe Sennò Perché ce ne sono due C'è anche la macchina Ahia Però c'è la macchina E non è da spawn Occio Sennò solo questo Occio Lascio qua No vai mi piace Ci facciamo fare una partita pulita Porco dio Po deve essere sempre sporcata Da agenti esterni Sporca e più bella Ciao Bella battuta questa Hai la macchina bro Che faccio gente Sogarmi Finchia Ti han promosso Scorro di pubblica No sinistra Zio dove vai Eh ma c'è la Ah c'è la gente Ah non so Vedi tu Beh se Bado Almeno metti fine Questa partita è inutile Volevo andare Pure li fai tutti con la pistolina Alla vera come sta Sparca Io ne stavo per fare Uno con la pistolina E su quello aveva le 27 Eravamo in fronte Fight L'ho lasciato One shot Non lo fai lasciarci No apriati vai sopra vai sopra prendi un'altra arma e corre sopra No no bozzucca tira Un'altra arma se c'è il pomo No no bozzucca va meglio va bene bozzucca E si macchia solo quello E si macchia solo quello Che sparano quelli li No 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 va bene va bene va bene va bene questo va bene questo Che c'è il mio No Sono infastigliato No Pronto? Ahi No Mi è mancato? Stavolta mi chiede no 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 Prima pochè cagli Stavolta mi chiede no Non è con Betto no No Eh Aveva il Pilar Poi la Damascus Top Top Grazie a tutti 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 Un colpo un colpo preparati, vinci qui e ti rimandiamo in prima linea se perdi sei fuori gioco guadagnati la libertà soldato è fermissimo vai è tuo ma no incontrera forte no dai finito tu sei un bello tu sei un bello un po' audio vai 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 nooo il vostro compagno sono gay non lo sottico il king non lo perde niente non lo sottico dove è paolo io sono sottile uab il nemico in volo hanno preso il lancio eccoli ormai andiamo via siamo qua dentro non ho capito cosa c'è c'è che smirata ok ormai ormai è tardi ormai è tardi e' andata lì perchè la finita sparando perchè la finita in gordo si davvero face si però c'è una parte che mi era iniziata malissimo non finirla scusare cosa è troppo negativo passare alla prossima area e prendi quella scuola e prendi quella scuola eh non prendi no se non vengono neanche le altre straccato un'altra straccato un'altra straccato un'altra oddio se c'è chi un dirà madonna raga ma eh non vuoi sparare figa Dio non va bene stanno scappando eh no ma ha tirato una raggata via via eh ti sto guardando merda cecchino si si venite via venite via ah rachiniamo lo ciacallo va a fanculo stazione medica qui e' andiamo lì bravi e' andiamocene vaga non vedo manco la missione si è buggata via quella merda di sciacallo andiamo merda arriva anche la safe cioè non ci credo muoversi no ci ha fatto ci ha fatto è ferma è ferma è ferma passare alla prossima area no proprio di lì eh ah no non è ferma però comunque lontana esci esci di qua a destra non possiamo stare qui tutti alla zona sicura c'è 3 minuti e' 40 no è lontanissima 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 c'è farmi anche una pipa vicenda quelle cose ti piacciono a me no però al buona al buona piacciono ma io sono gay perchè ho perso il culo mi piace di tutto al buona non fa differenza poi adesso posso entrare piastra cassa di placche non ho bisogno ma puccio non puccio con la macchina si io non ho un'arma uno è sceso qua dietro vado di qua un'entrata a burger si fuori 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 come saltare con la pistola raga un buono un buono un cecchino guardami uno di più a te un buono schioppa un buono un buono creatore vai a terra con la pistola raga oh cagato addosso eh sto scazzo ha bestemmiato fanno raga prendiamoci questo qua che mi ha pushato faceva di uno schifo tenete raga il soldo in mezzo davanti vediamoci il lancio dai ragazzi un cecchino dov'è dov'è? è uno di loro ve lo pingo io adesso guardate è qua dove? ha tirato un assordente dov'è? dopo un benzinaio è qua da me uno in discesa uno in discesa ignorate quello che ho fatto attenzione bombardamento di precisione alleato in arrivo ma siete sopra con me eh? no raga non credo ce l'è uno sopra fatto uno? fatto è sopra leo è sopra il tetto si? ho paura è lo ping eh io non so se andagli in testa raga voi siete lì sul tetto o no? no c'è un altro team c'è un altro team no 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 per me PERCUNTRI sono il tuo pippo audio guardate quello che ho detto buono c'era che me sono qua nemico avvistato compagno inviato nel HULAG combatterà per tornare innazionale beethoven devo scappare devo scappare che soldi arrivava safe raga inviate l'elicorso no io fatto fatto no come no siamo rimasti come no avevo arrivato a sesto qua dai raga palle voce kill no ho preso la macchina prende l'elicottero la voce kill no no lascia il mirino lascia il mirino mili troppo la daglio porco perché mi lacca così l'uomo l'uomo tempi rimani volo polio no cazzo sei morto paramo cacques aspetta rimani volo rimane volo che va via lasciacarlo dovrebbe andar via adesso dato che è fuori safe o sbaglio posso prendermi le armi no no c'è gente ti do anche spari l'uomo ecco vai lì all'uomo chiamare la carla rossi lo sciagalliamo si minchia tu volevo sciagallare eh aspetta mi chiediamo se c'è l'altro quanto più comodo qui c'è roba che posso vivere si è più comodo si è più comodo si è più comodo quello è mio prego pregi un po' di connessione oh un'armetta oh adesso uno scudetto un'adrenalina un'adrenalina oh che è scesi quanto mi piacciono i che è scesi eccoli qua so di facci non esistono oh cos'è sto lag oh ma cos'è quanto bug sai che sento passi ok un bel chilozzo oh non è ma non è per me è buono questo vuol dire eh si lo so madonna che posto di merda tu devi prendere l'altra città ok tolto tolto dammi una ma... oh buono questo questo è ancora più buono uno shop stazione medica laggiù che armè è questa? controllate la mappa grau un grau fatto malissimo però settato con la canna corta fa un po' schifo però laser oh ma rinculo un sacco se ti rinculano tutta terra non dire cagate vabbè ma le armi che rinculano tanto sono più facile gestire con il controller che con il mouse eh c'è il... c'è il braccio mobile ross e non solo c'è il pigello mobile dai adesso l'ultimo si è si è restati da solo faccio primo eh io non guardo si vede che l'avete dalle basse non l'ha preso non ha preso il comando raga non ci credo se fossi spostato a destra ce l'avresti fatta faccio l'ultima io ci sento qui oh non ha preso il 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 sean non ha preso il Alla prossima! riscaldatevi per bene tra poco si entra in azione droga presa che sc**a per prima una fatta è una buona partita ok ho 7 kg neanche metà parte io avevo 2.000 di danno e 0.000 allora fai te non concludi non concludi mai il contratto si vai bene mi fa lontani vabbè arriva lo scammatore arriva lo scammatore per eccellenza non si ha chiamato il buona e vabbè lì il riscaldamento è finito schieramento imminente nella zona di guerra mi dicevo una kill e che dicevo oh è mio a terra l'ho distrutto arriva buona la si bella non è che spara con lì il trago quando lo uccita quando lo spara con il caso lo tracco poi sento buona a terra eh grazie al tasto grazie indica un punto di lancio conduci tu il team attenzione approcci alla zona sicura sopra quel tetto proprio vabbè andiamo al 2-2 vabbè non ho fatto mi vado con rassa e c'è il blu vabbè vabbè io voglio vabbè si sono il capo squadra l'ho passato io il capo branco dei miei paguri paguri giochieri esatto oh tieno raga è un team eh in movimento l'obiettivo principale è farlo no 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 ma la gara no ce la fai paolo no ma uo la raffa è morto no sono lontano tu ce la fai qui ah scusa ho scelto due volte ho quadrato si credo si dice qua 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 non c'è nessuno vogliamo muoverci forza vabbè io io non ho un'armi raga no ma c'è un'altra qua in pancia raga ah avevo finito le muni a terra si è buttato uno ti bussia e non ho armi ok che cazzo che palle ma c'è una lagata no 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 hai visto scontro in corso io ricomincerai proprio da ca se vinciamo in 3 ok se no no se vinciamo in 3 ok se no no ok se vinciamo in 3 lasciamo andare se no niente o meglio ancora prendi via sopra con il cronometro con il cronometro resti le diverse entrambi eh si poi trovi camperoni come mi hanno fatto i tuoi e Paolo e preparati sei il prossimo me li trovi anche partendo bene vinci qui e ti rimandiamo in prima linea se perdi sei fuori giù compagno caduto venerà alla patria vinci qui ballo fuori ho conquistato l'obiettivo sei uscito male ti riportiamo a casa se ha abbastanza soldi ma non ci credo ma non ci credo fatemi vincere bulag poi risortiamo vuole prenderci la fila tutt'icolo certo oh ma che c'è ma questo è il mio perfuglio se quello che si trova risortiamo? si si vabbè salta 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 lo so chi è l'host io eh io no eh salta allora come schiacco senta 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 nooo mi siete battuti bene mh inserita ragazzi io nemmeno cringe lo s**to hmm hai visto un video che io non ce la facevo Vabbè, potrò pensare. Voglio la fibra. Vabbè, 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 vabbè. In attesa dello schieramento, è un buon momento per riscaldare. Mi manco nei primi cinque in finale italiana e adesso si gioca alla finale europea. Con produttore di beat. Come produttore di beat? Sì, quelli che fanno le base e i rapper. Ma va. E chi è il tuo? Dimmi il nome. Julian Beats Ha fatto la coda con Il Il contest Diciamo così la gara su S Magazine E' arrivato Tra i più di 5 in Italia Ma ha fatto la cantana qualcuno famoso? Per ora no Perché è ancora in mano Un bello studio Ah no Si è messo lì col pc Oramai più o meno tutti possono farlo Fa chi? Fa che programma lo fai Si si Però diciamo se è anche un bello studio ci sta Deve avere anche un po' di No lì non è a morire Lo studio ti serve solo per registrare La voce dei cantanti Ah è vero è vero è vero che stupido Hai ragione Ha fatto una base Dalla finale E i rapper quelli famosi Canteranno più Basta chi ce l'ha Sono vince I rapper Che rapper canta? Eh boh Canteranno quegli americani Quegli italiani Quegli tutti non so dove voglio andare lì? e io andiamo a morire ci dividiamo? ci dividiamo? ormai? si c'è troppo che non c'è nessuno bene gente, diamoci da fare prenditi la cappa raff chi non sa usarla aspetta che ti scarico questo dove è la cappa? no no ne ho trovato un'altra barbaro no spero che ti scarico questa che infame eh? c'è gente eh? andiamo dietro oh ne ho visto uno la eccolo la lascelo la lascelo la occhio dove fai? c'è uno che non è la casa chi viene con me? io vengo un attimo un attimo che sto andando raga ma se venite qua no? sono incastrato non basta uuuuh uuuuh palo c'è gente c'è gente dove? da me da me ecco fuori da me arrivo eccolo qua il gay che muorirà cazzettate basta eccolo no sono morto io come? no lo stavo superando questo ti accompagna sopra a terra uno niente oggi non ho visto film quanto fatto quattive può tornare in azione c'è uno negli anga dove sono morto è il resto uno è la buonita no non c'è uno no non c'è uno sei a te sei a te sei a buonit non è in forma oggi ok io arranco con la mia connessione che schifo avete vinto? bravi indopinate che arma ho? quella che è fatto qui mamma con un colpo ti puoi riprendere due ore sei morto e direi che possiamo andare da boccioni che c'è lo shock e lupiamo e si chiamò all'auto cos'hai detto Paolo? non ne perdi uno di culo? no culo che no prima l'hai perso mi sposto qui ah fai culo che hai anche fortuna di valerio armi si esatto fino a ieri ne ho persi due in una settimana mi sa tipo due in un po' poi oggi le piace tutte qualcuno che c'è il lancio 5,6,7 8 bisogna luttare raga è allutti qua si allutti vai vabbè il nemico in volo in movimento vabbè ho preso uova viva andiamo a pusharci ora veloci veloci se vogliamo shoppare shoppiamo ora avete del gas in arrivo venite venite andiamo 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 sta fightando sta fightando raga con un'altra gente vai sir vai a comprati il lancio dai sono condizioni di mitraglietta abbiamo la cassa di muni non l'ha presa oh sure ripeti il lancio o no guardi adesso direi qua sir un lancio di equipaggiamento in arrivo dove da dove da vere aspetta vai via l'esperienza tutte queste intrate di un uomo guardala qua stiamo nella zona sicura occhio ai nemici guarda paolo come siamo sono da vele raga nemico vabbè l'ho pingato allora se volete ci possiamo avvicinare furtivi furtivi in questa casa qua mi muovo perchè non sta guardando ora però non sparate poi pinga se no non vedo nulla ok è la corona quindi buono io c'ho silenzio posso anche salire poi io ti direi di salire Leo 2 2 2 scale facciamo io a sinistra vengo no tu vai solo da sinistra e andiamo da destra ah ok perfetto adesso vado a fare un giro assurdo però eh vai vengo in silenzio vai vengo in silenzio eh anche io mi vengo in silenzio sto vengando con chi? con te a solo ah la gente davanti c'è ah non c'è una corda qua? c'è gente che sta venendo eh no ma porca voi mi sfaggio cari oh è pieno di gente è pieno di gente sotto Sir adesso mi please forza arriva arrivano al tonne qui c'è un altro team cazzo un assorbente arrivano raga hai visto 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 una che arrivi che arrivi non arrivi no non ci credo ho sfile in discesa nell'area continuo dove sei scappa su là scappa su sto correndo sto correndo non ci credo mi riscopro non ci credo non ci credo oltre che arrivano da sotto e ci fanno hamburger arrivano arrivano tutti arrivano quanto gente quanto gente arriva da l'altra parte anche non vado ad arrivare adesso siete ha fatto una schida ha saltato ha saltato è uno l'ha terrato ma c'è stato nulla da fare raga non ci credo non ci credo hanno giottato questi qua raga ma a cannone proprio è così che ci fa si si vinci questo scontro e torni in prima linea perdi e per te è finito vallo fuori o conquista l'obiettivo ehi l'hai fatto a pezzo preparati a rientrare mia azione non so se è tornato lì ritorniamola no 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 mh scacchalli qua guardate sto sporato io vai te la fai venita a me zio si ho voglia questo dove vai vado da questa parte ritiro tutto e poi le tasse le armi compagno che io mi troverà la base sopraveni so per fare una giocata raga allucinante io non ho trattato coppato uno traccato l'altro a l'utilizzo dove ah lontani arriva un lancio d'equipaggiamento buono obiettivi aggiornati eh perchè saranno 3 build out come minimi gas in movimento nuova zona sicura in tua terra perchè? guardalo dov'è ah eh c'è gente lì? no è sul tetto no 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 si si ah no zio eh no vedrai guarda è dentro si guarda dentro sopra 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 guarda approvvigionamento avvistato ah le dà scudo mi guardavo la catrice a caso ah no contratto aggiornato nuovo obiettivo identificato zio possiamo andare qua qui c'è un venditore disponibile vieni via la macchina guabinemico in volo machina lo sciacallo no? si 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 veloce che cazzo andiamo via le prego via corri 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 raggiunto tutte le casse di scorte trovate ci facciamolo d'auto anche se riusciamo si 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 cavacciamo no si si non c'è lo so sistema trofico avrei un po' di soldi io per terra no c'è troppa gente allora facciamo questo villaspera non ci sia gente ritiro tutto perchè quell'altro qua c'è troppa gente 8 mezzo gas in arrivo salgo da dietro che se tanto è inizio è chiuso? buono si alla zona sicura uabinemico in volo nel lavoro un solo soldi dovevi vedere piastre no no aspetta aspetta dammi tutti i soldi non ci credi vai evasione eminente scioppa scioppa ma non ci credo raga lo ho appena arrestato cioè io non ci voglio credere eh so Sì, sì, sì. Shopee, insi per far vedere le piastre? Io ho bene le munizioni, fighe. Me ne butti due, per favore. C'era gente davanti, hai detto? Sì. Ah buona, vieni qua. Hai chiuso la piastra, tu o non ce le hai? Sì, allora c'era gente qua, eh. Non ho munizioni, so. Uno, erano due. Erano un elicottero, prima. Si ignorate. Posso andare via con l'elicottero? Borso. Trano andati via, eh, ma sicuramente qualche ratto c'è ancora. È un team solo, secondo me. A me piace andare a caccia di rati. Mi piace fare il ratto nella privata, eh. Grazie. Grazie. Qui c'è una protezione. Ma è looted. Qualpino di loot, rai. No, no. C'è loot. Ma, qui c'era un altro mezzi. C'era un sacco di loot qua davanti, eh. C'era, c'era tutti quei soldi che ho adesso. C'è un 5k. Minchia. Eh, prendi un... No, no, casca di muni. Casca di muni, casca di muni, bravo. Ecco va. Eh, io non ne ho, zero. Posizione disponibile. Ok, ci siamo ricopatati. saltati hanno restato siamo ritornati in game ora con la testa possiamo andare qua al secondo lo dà non lo so ho seguito rumore però ma tanto non riusciamo a salire ah già è vero no se non abbia l'elicottero niente serve a qualcuno? si? eh no è fori safe vabbè orco adesso giro anche si chiuda la save dai io avanzerei comunque riesco a prenderla magari si certo che ce la facciamo prenderla eh ma no ormai no facciamo però andiamo no più che altro ho paura che ci sia altra gente e dato che quella lì è sotto quindi parti l'altezza è brutto oh chi è che cecchina? chi è che ha sparato col cecchino? ho detto ho sbagliato io raga erano solo il film tranquilli vabbè avanziamo? dobbiamo fare vabbè questa partita qua lusciasse le botte di culo al momento sbagliato lo dà sul tetto evasione imminente serve a qualcuno? eh eh avanziamo avanziamo al suo centro eh la sfiga nostro stile di gioco gas in arrivo alla nuova zona sicura eh raffi è buona per il caffi andate che facciamo? facciamo gli ingordi? 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 vai boh con la pancia vuota io preferisco farmi un po' di ratti però andiamo gisifestazione arriva per farmi i ratti dobbiamo prenderci uovvi e auto rest dato che poi se moriamo uh ora fa quanta roba c'era un mp7 oh guardavo la in volo fatevelo qualcuno cozzettino ok ho un altro che c'è stato giù stato impicchiato sto sotto eh me ne entra un colpo boh c'è gente sotto c'è gente sotto merda aspetta provo a strisciare sparate sono safe qua mi sa ma dove sto? non li vedo aspetta pingate 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 contatto uno che resta raga raga uno che resta dove sei? oh lasciate io ehm grazie che lui c'è ci serve andiamo a voi tutti c'è grazie paolo egoismo eh? gassi in arrivo io no io no ok scusa c'è un potere assalo tu ma eri bruciato tu? miro più avanti andiamo andiamo quando uno è a terra potete interessare dovete interessare dovete interessare subito perché può succedere nelle altre cose che poi dopo prossimo obiettivo localizzato vai finiamo già che ci siamo in discesa nell'aria ok ok contratto aggiornato nuovo obiettivo identificato st dove che ho sparato ah davanti che ha interessato c'erano i cecchini di prima eh dove? ma non c'è vado di qua sì sì c'è ancora c'è ancora errore mio affermativo no ragazzi dobbiamo andare in safe andiamo tutta a destra? no e ci scoppiamo questi qua sotto che stanno sparando? sì 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 atterrato andiamo andiamo giù da loro andiamo da loro andiamo da loro vai su certino no 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 ma raga giù da loro quali loro? eh esatto qua a destra c'è il cipolli a destra ok a ok guarda 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 attenzia non è che sia la grande altezza questa qua perchè non c'è io ho conl'icare che ha noccato paolo fatto uno ero l'unico ragazzi sono ragazzi no 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 e voglio non faiare soltetti attenzio per morire eh non è un buon punto quale no no forse no perchè adesso bisogna crossare tutta a destra devi andare raga sopra le... no no che è dio ma dov'è? cioè raga ma crossiamo o no? vai uovi e come cazzo facciamo crossare adesso? venite da me venite da me vi aspetto eccolo lì è della finestra ok togliete pinga ignorate quello che ho detto ma muore figa obiettivo irraggiungibile annullare il contratto vittato deve buttarsi questo e mi sa che non è in safe no è in safe no è in safe ma sono due mi sa si 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 ocio 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 lo cecchino non era neanche male sto qua no l'ho fatto io arrezzato gas in arrivo spostamento della zona sicura occhio eh controllate sempre cos'è che hai detto raffi? arrezzato arrezzato andiamo in safe andiamo in safe approfittiamone soldato nemico in arrivo e? dove? adesso lì sopra lì sopra occhio raffi proprio magari c'è gente dietro eh lo so io andrei in safe la che ne approfittiamo eh sono andando rossa adesso giro la safe è veloce nel senso dato lungo quindi va a 200 come veloce? eh si dove siamo noi va veloce la quarta è abbastanza veloce eh ah non è sempre più lento? ma che è sempre veloce no no vabbè chi mi dai soldi che mi prendo il resto a poco? figa eh anch'io lo prendo scusa sono pure cassa rossa va bene ecco ce li hai ora Paolo eh andiamo a farcelo ah raga ma hanno luttato tutti col culo in sta sortita avete del gas in arrivo si mi lasci un po' di soldi Paolo buongiorno panificio a guardoni non è un kill di bamba no ma no ahahahahahah ahahahahahah ragazzi si è una classi di muni lo abbiamo scusate vado scusate raffi se pinghi ma ci cari cos'è che volete? cassi muni? non lo vedo più sì qua giatela ah vabbè ah no l'ho comprata ma che cazzo no raga si è sodua non fightiamo con gente inutile erano quelli ho comprato niente ok ok abbiamo in safe ah figa di da comprare non è brutto è di più ok se non ci sparano non spariamo gli cosa che hai se ci sparano dagli angers non spariamo gli no se non ci sparano non spariamo gli che siamo in cinque no vi ho detto per mante è un grosso uccida questo a destra correre correre vorrei correre no wii hu ok ci stiamo a casa di moriaio oh! a destra a sinistra è atterrato 1 vabbè sono si è sotto allora occhio che è atterrato 1 di lì c'è roba che può servire oh si è schiantato perchè ho visto che è veramente veloce che è boh bersaglio taglia disponibile andiamo andiamo al piano sotto a me oh c'è la corona qua eh nemico avvistato facciamocela bene no 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 lascio stare lascio stare sai che sembra un punto di merda è sul tetto no non è sul tetto no è qua è qua bersaglio taglia eliminato ben fatto occhio che c'è un altro eh zona sicura riposizionata c'è un altro qua in tappornoni mi è stato malissimo era easy craccato è morto praticamente ha craccato uno sotto è morto quello là dentro nemici nell'area praticamente è morto ma dove è sparito? alleato in arrivo è finita corona a terra a terra a terra a terra a sinistra scammata è uno là dentro tiri in discesa c'è un'area c'è un'area occhio in alto raga devi andare in safe si oh la sua scuola scuola fatto già per fare con la pistolina raga mi ha detto dai ero passato andiamo 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 in safe avrocio e poi ha incontrato il ha incontrato il suo caro ragazzi non c'è non c'è paolo te che non le usi magari ciao no c'è io c'è la cassa c'è un paese ho fuso un full ma dammi un po' anche me allora pollo avete del cassino io arrivo medio calibro qui deve dividere a prenderla fate un po' presto anche quest'altro cross non è brutto di più non possiamo stare minchia trato poi dove chiude ecco occhio sopra e facciamo a prendere il secondo no? si eh si guarda dov'è ah no forse si no devi evitare taglio taglia eliminato ben fatto parca tra quanti soldi ora oh uno solo uno solo ma hai fantasma paolo? ci mettiamo in concessionaria vado da questa parte si non hai safe non hai safe non hai safe va bene va bene va bene va bene va bene c'è un 5 team crociamo si o no è una cosa da prendere c'è la macchina qua c'è la macchina 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 andiamo sul tetto che dite? no 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 è scomodo il tetto eh tetto 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 si è sicuramente un po' più safe cosa bastano che tirano un grappolo o qualcosa queremos no 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 se ci spostiamo oi eh l'hanno dużo preso il tetto che dove pianto peccato di una caccato uno caccato un altro io sono giù sono giù sono in bagno sono in bagno qui si guarda una fantasma quindi li pingate sono in due bene siamo nella zona sicura scendete giù si è sotto non vi piace raga dove sei ah sopra raga 4 team siamo giù che spettacolo si qua giù dove sono io si ho due kill ma si può guardate voi state lì si io sto qua sul tetto c'è gente sono quei due là e basta lì c'è silenzio raga se vi serve c'è una nuova zona da cura individuata buono ancora in scelta quando diventa piccola ti vedo così scendono si esatto eh non so se c'ho i quattro cominciati eh boh eh ne pingo si sono i due tipo due si no niente scattavo ti prego non mi laggare ti prego vediamo se qua siamo in safe no non sono in safe io qua dove sono io sono in safe hai capito qua buona top ma così non è male mi sa che qua da me scendono quindi occio ma non c'è nessuno qua sotto si si a sinistra le buone sono qua sopra la mia raga mi sa che scendono qua dalla mia porta dove era? qua non è fin da 31 metri qua sentivo spare prima si qua dove sono c'è che sono là eh ok vado eh annullare si qua dove sono io raga eh sono sopra di te vado da te bello chiudere il super vieni che nel caso si scendono ah faccio una bella una cosa da fare si aveva son dei ma ne pingo tre in fila eh su qua da me su qua da me su da me hai uno solo ok uno fatto ah gli altri sono sopra gli ha pingati lui ha detto sono qua da me cazzo in arrivo zona sicura riposizionata si sono ancora sopra sono qua sono qua ignorate quello che ho detto aspettiamo aspettiamo che aspettiamo che aspettiamo che aspettiamo che aspettiamo che ma non possiamo stare qui tutti alla zona sicura aspettate a uscire sto dietro qua qua c'è fatto 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 vai ti agli grappolo ora ti agli grappolo ora tira il grappolo ora ora guarda avanti oh 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 chi si vede oa raga raga uno un altro è buonissimo fatto 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 mi manca uno no 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 fatto 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 io l'ho fatto l'ho fatto l'ultimo che lo ha fatto io l'ultimo l'ultimo l'hai scammata? no l'ho fatta io proprio ho una destra era c'era una destra c'è bel graffolo siamo l'ultimissima con questa bella vittoria vi saluto si dai si chiude in bellezza non peggioriamo ok basta allora buono dai ce l'abbiamo fatta vuole fare l'ultimo no basta basta 22 solo 22 kill ma meglio di niente chiediamo fatte kill non è male non è male beh 9 ci io ho recuperato alla fine 9,5,4,3 quindi siamo a 10 13 16 si ma guardate guardatemi i danni ragazzi ci sono 2